Sono Andrea Neroz, docente per la Federazione Italiana Fitness e oggi vi mostro qualche esercizio sempre per rinforzare la planche esercizi un po' più avanzati rispetto a quelli basici in cui si hanno ancora i piedi a terra ora cercheremo già di staccare e sollevare i piedi a terra rimanendo in appoggio solo sulle nostre braccia e vediamo, uno dei primi esercizi è la posizione di frog stand o semplicemente frog e la versione base di questo elemento si esegue con le braccia flesse il braccio è flesso circa 90 gradi, vedremo, con il gomito che si va a appoggiare sull'interno delle nostre cosce andiamo a vederlo, per eseguirlo è sempre importante ragazzi avere qualche attrezzo a disposizione le paralleline in questo caso o dei semplici rialzi che ci permettono di avere un piccolo gradino che ci facilita questa esecuzione, poi più avanti quando si avrà dimestichezza in questa esecuzione si potrà fare anche a terra e poi avere un materasso, io utilizzo materassi di Gape di ottima qualità è un prodotto italiano e una densità di materasso abbastanza dura perché ci serve avere comunque una certa stabilità sul nostro appoggio andiamo a vedere l'elemento, mettiamo le paralleline leggermente in posizione aperta a V pieghiamo le gambe e divarichiamole il più possibile a questo punto flettendo le braccia cerchiamo di incastrare come vedete il gomito tra il mio polpaccio e la mia coscia, l'interno cosce a questo punto creando una gobba dorsale tipica della hollow position che abbiamo già visto in un altro video quindi risucchiamo in entro l'obelico sbilanciando avanti le spalle e incastrando il gomito per bene cerchiamo di staccare i piedi da terra mantenendo questa posizione isometrica in cui il corpo deve essere esattamente parallelo rispetto al terreno il bacino e le spalle devono essere sulla stessa linea esattamente parallele rispetto al suolo grazie